bellissimi italiani è arrivato il momento di farvi tanti auguri di buone feste scusate se ogni tanto mi soffermerò davanti a questo straordinario pandoro che davvero la nostra grande offerta natalizia per tutti gli italiani ma non solo allora dico a tutti di fare un brindisi agli italiani anzi no questo è il vino questo è il passito di pantelleria visto che ci troviamo in questa bellissima isola perché come sapete sono spostato in sicilia per fare questo straordinario natale quindi festeggiamo insieme qui l'assessore d'agostino buonasera come sta tutto bene